Per immaginarsi la Gondikens, quando gli spiriti del Natale visiteranno i sogni di questo Higuainavaro di gol e solitario, gli mostreranno le certezze del passato, fatte di reti e successi tra Madrid, Napoli e Torino, il grigiore del presente e di una vigilia che mai avrebbe potuto immaginare tanto triste, e soprattutto l'incertezza del futuro queste feste Gonzalo le passerà con la maglia del Milan addosso. E le prossime. Ascensore. La crisi dell'Argentino precede quella di tutta la squadra, e questo aspetto gonfia ulteriormente la bolla di dubbi che aleggia sul futuro in rosso-nero del Pipeta. La brutta prestazione nel derby ha acceso la prima spia, il blackout di Nervi contro la Juventus ha fatto scattare il vero allarme, tracciando una sorta di confine tra la prima versione rosso-nera di Higuain e quella attuale al di là delle dichiarazioni davanti ai cronisti, il Pipa non è più riuscito a ritrovarsi e la situazione è precipitata. Nella sconfitta di sabato con la Fiorentina, il quadro sembra essere ulteriormente peggiorato al solito copione, partenza propositiva, dialogo coi compagni e applausi di incoraggiamento, poi scuramento e nervosismo, si è aggiunta una evidente sofferenza fisica. Punto difficile capire quanto pesino i guai alla schiena e quanto invece incide quello che passa nella testa di Gonzalo in questo momento. Di sicuro, però, prestazioni deludenti e voci di mercato erodono ogni giorno di più. Su la sua serenità punto desktop minore di spend class uguale notification barra spangazzetta tx link copia embedo copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Punto accetto security warning. Please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook help center for more information. Silenzio. Nei primi mesi in rosso nero, società, tecnico e squadra hanno sempre fatto quadrato attorno ai guai, accettando gli atteggiamenti non sempre esemplari nei confronti dei compagni o sostenendolo nei momenti più delicati, come quello seguito alla sfuriata in faccia a Matt Soleni nella notte del K. O. Con la Juve a Gonzalo veniva riconosciuto il ruolo di leader e in nome di questo il nove rosso nero veniva protetto, assecondato e coccolato. Nelle ultime settimane, però, la musica è cambiata, perché Iguain ha tradito soprattutto in termini di personalità. I rumors sul possibile mancato riscatto a fine stagione servirebbero 36 milioni da versare alla Juve, oltre ai 18 pagati per il prestito oneroso e sulla trattativa con il Chelsea per imbastire il clamoroso scambio con Morata si rincorrono da giorni. Ma da via Aldo Rossi non arrivano smentite nella mente del diretto interessato. Il silenzio del club rimbomba inevitabilmente molto più che tra i tavolini dei bar frequentati dai tifosi. Punto anche i toni di Gattuso sono cambiati nell'arco di 24 ore e il tecnico rosso nero è passato dall'Iguain me lo tengo stretto di venerdì a Milanello al finché si allenerà con noi dobbiamo metterlo nelle condizioni di rendere al massimo di sabato a San Siro. Tra Frosinone e Spal, insomma, oltre al futuro del tecnico c'è in ballo quello del centravanti e le due gare che chiuderanno il 2018 potrebbero essere le ultime di Iguain al Milan.Testa, mercoledì allo Stierpe Gonzalo dovrebbe agire da solo al centro del tridente classico con Suso e Cialanoru per riaccendere l'ispirazione del suo uomo gol. Gattuso pensa di tornare alle origini. In due incroci con i laziali, Iguain ha esultato cinque volte e nel maggio di due anni fa festeggiò una tripletta che proiettò lui nella storia del calcio italiano, con il record dei 36 gol, e la valutazione del suo cartellino nell'orbita dei top player, con i 94 milioni sborsati a Torino per strapparlo a Sarri che adesso lo aspetta a Londra. Per restare 12 anni al massimo come ho fatto in carriera, serve una grande forza mentale e io ce l'ho, raccontava il Pipa quando lui e il gol erano una cosa sola per uscire vincitore da questo ribas di fine anno, di forza ce ne vorrà ancora di più del solito.